ok su instagram c'erano tutte le nostre belle lamenteluce e nostre belle cose colorate bellissimi chi mi menziona ancora tira fuori video vecchi perché ormai non fa più un cazzo adesso che faccio ancora più diciamo casino di prima non c'è un cazzo a fare siamo sempre stati un canaletto piccolino così ma con tanta fava e adesso diventa molto più forte dalla di partita di domingo che oggi cercherà di fare la sua azione disperata e ancora mi taggano su vecchi video gente tra l'altro che mi ha bloccato e che ha fatto di tutto per telefonare a casa mia fare casino durante un periodo molto brutto della mia vita che mi sto portando avanti tranquillamente tranquillamente no però insomma oggi parliamo di quello che mi avete chiesto per cui la condizione come si fa che cosa hai fatto hai fatto la dieta di secco che avete fatto con secca big blue allora innanzitutto lasciando perdere tutte le cazzate che vengono dette lasciando avrei voluto fare un video su quello che capiterà da adesso in avanti perché tra un po sarà difficile anche allenarsi perché i giochini statali non sono finiti per quello a cui interessa e per quelli in cui magari si vogliono preparare per uno scenario apocalittico non sto scherzando però in effetti non c'è poco da scherzare io dico allenatevi allenatevi non portando cercando di avere nessuna in grossa aspirazione devo arrivare farò dirò cercate di fare il vostro percorso poi portarsi e portarsi la garetta a casa e libertà di tutti ci vuole comunque un periodo dove il muscolo e non so più come dirvelo viene preso usato strazzato condizionato come dite voi e abbia un tot di tempo di esperienza l'esperienza fa il numero di fibre ora fa la densità fa la forza fa una e poi una cosa molto importante la connessione menti e corpo che dicono tutti quanti si chiama proprio il proprio eccezione io la chiamo in una maniera molto più tranquilla sensibilità la sensibilità non è da tutti nasce con la persona portata per fare questa cosa che ha subito appena tocca al peso una sensazione che poi sono endorfine sangue che gira di conseguenza di di pompaggio lo racchiudo in questa parola qua molto forte molto forte di conseguenza una crescita soprattutto agli inizi che è esponenziale per cui io dico in curva che sale un proprio iperbole ecco chiaramente come tutte le iperbole poi dopo un po sale e va assestandosi per cui la curva si va stabilizzandosi per il natural si ferma nel senso che più anni con più anni avanti i progressi sono cambiando degli stimoli passando da che ne so 17 a 35 anni se uno si allena sempre 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 dopo un po se la crescita si blocca la qualità comincia e poi ci sono anche altre piccole cose che dovrebbero essere toccate come la resistenza alcuni allenamenti in particolari che fanno il muscolo gli insegnano ad essere ad usare tutte le sue qualità per cui le fibre bianche e fibre rosse il fatto di stare in una posizione fisso fermo in contrazione tutti gli sport se voi vedete hanno una certa connotazione chi fa gli anelli ha dei bicipiti particolari chiaramente non ha le gambe ma non gli servono tutta la parte superiore spalle schiena bicipiti anche un po di trice tante volte perché non vi pensate ma trazionare questo movimento è il movimento del tricipite questo momento del tricipite nonché il movimento che fai quando fai un pull over fatto come dio comanda per cui schiena l'addominale tiene su comunque tutto per quella parte superiore ce l'hanno perché e sono sempre in in una situazione di come rocciatore di staticità per cui stare in una posizione in contrazione assolutamente come anche usare la parte eccentrica tenendo il pre il peso e strecciando come fanno loro prendono infatti questi sportivi che fanno dei movimenti da body building insomma fondamentalmente quelli che hanno la densità e che hanno le rotondità che voi cercate che rimangono di più nel tempo ora quello che ho fatto io quello che ho fatto io non ve lo posso spiegare in due secondi anche perché si vorrebbe cominciare una carriera se io facendo questa cosa qua sia io che il ragazzo che ha avuto ha detto massimo mi ha buttato questa cosa per gioco andiamo a fare questa cosa io non so ancora che federazione è sicuramente non è professionismo sicuramente non è qualche federazione se non sbaglio il fit italy fece il nostro caro tettina enrica di conseguenza l'obiettivo sarebbe poi andare a fare una seconda gara dalle parti di valencia dove le cose diventano un po più adesso non ho chiesto quale sia la federazione non penso che se non è profession è impossibile tutti quanti fanno una gara bene o male per fare come posso dire la gavetta e io che ho 50 anni non è che arrivo e sono il figo di dio chiaramente guardi la federazione secondo me che abbia meno inghippi meno inghippi meno puttanate nel senso di e portare una condizione in gara per quanto riguarda tua personale che sia la migliore in termini di massa ed in termini di tagli per cui se sei arrivato a una percentuale puoi considerarti fortunato nel senso che secondo me 5 già sei è una cazzo di percentuale se non sbaglio rocchi 4 che era tagliato a morte era su 4 qualcosa anche di meno di fatti cascava spesso per terra quando tu ti riesci a vedere e comunque vedi il livello di preparazione delle altre persone che comunque sia sei comunque competitivo puoi essere anche meglio perché comunque io sono un master per cui vado oltre non master wallace e carichi 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 non master wallace sono un master nel senso che sono over 45 di conseguenza si voleva fare qualche cosa poi a valencia di molto piuttosto però le sono decisioni che aveva questa per gioco nel senso che dire tocca adesso sono salito finisce qua si fa vedere una preparazione x e si vede di comunque di portare a casa nel podio perché uno non si muove per fare secondo terzo nonostante ci può anche stare insomma non siamo non siamo i sultani come sono certe persone che adesso vanno cercando di quello che fai così quello che semini ve l'ho sempre detto e voi me l'avete ridetto con questa grande storia avremmo dovuto crederti tutti e darti e darti credito a tutti quanti è andata così meglio tardi che mai dico io quello che uno semini pure questo mieterà dopo vi dico quale versetto e quale capitolo è della bibbia se come tanti culturisti che poi cambiano titta tatti titta perché non riescono a stare anche come il nostro panetti arazzo sotto regime di tot grammi e poi niente per poi dover riuscire a scaricare tutto quello che è nell'ultima settimana che era più tremenda penso io la sto vivendo perché comunque sia sarà da buttare fuori acqua ci sarà da buttare fuori tutto quello che sta ancora attaccato tra pelle e muscolo non ho dovuto fare tanta fatica perché sono già sempre stato molto un etomorfo cadavere sempre e che è stato sempre abbastanza attirato per cui si è fatto qualche cosa io mi sono preparato completamente da solo tutto il resto integrazione cosa che poi verrà spiegata quando vorrete fare qualche cosa primo dei segreti mettere la carne perché un pezzo di carne così che ha attorno uno lo spec avete mai visto il cui prosciuttore dello spec ok è pieno di cera cotenne merda grasso volete mangiare una fetta di spec dovete tagliare tutto quello che c'è sopra e da un certo chilaggio dopo ne rimane un altro chiaramente più chili di mani dalla scrematura più ai da dimostrare ai da poter far vedere quello che c'è non capisco come ho fatto vedere oggi alcune gare natural perché poi per questo che il natura rompe tanto i coglioni ma si presenta come il nostro amico nati or not come una vedete le storie vi rimando alle storie perché sono più interessanti ancora adesso perché lì si può essere un po più colorati il nostro nati or not che ho visto un paio di foto ho detto cribbio che cos'è ecco le ranocchie che trovi su quelle bancarelle della thailandia che devo sgranocchiare parte che questo tiraggio estremo è estremo ed è innaturale poi trovi fenomeni genetici 210 di panca 17 anni sono tutti figli di cripton tutti chissà come che l'unica cosa che ha detto di buono quello che sono tutti sotto l'unica cosa di buono poi poteva anche in questa vicenda nuova del polimar evitare di venire fuori perché anche lui con tupi e scioglipancia e con predizioni di vincita sputtano di compagni ne disse ne disse ne disse di ogni e sono ancora qua di conseguenza bisogna lavorare prima bisogna mettere la carne messa la carne e ha visti che c'è comunque nonostante si vada sotto stavo dicendo nati or not nati or not con i baffetti chiaramente arriva a livello di vertebre per cui da naturale io credo che sia naturale la testa lì lì ogni volta che c'è una gara ci sono dei danni infatti non so che cosa ti debba dimostrare di muscoli non ce n'è e per questo che poi il natural che rompe il cazzo al dopato il dopato dice sono natural e ti metto in quel posto un altro diciamo vantaggio del nostro polimare che ha sdoganato tutti quanti i due parti d'italia tutti quanti i due parti d'italia facendoli poter mai possibile che questo sia no ma non rompe i coglioni per cui chiaramente la visualizzazione serve e questo serve poi ci sono quelli che addirittura hanno descritto i fenomeni genetici 1 su 700 milioni e vabbè comunque durante il mio percorso il mio percorso è stato duro perché ho dovuto attraversare tanti problemi familiari grossi per cui nanna qualità del sonno siamo sognata soprattutto i primi tempi è stato non sono stati molto duri e anche mesi 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 dopo adesso le cose sono appena appena migliorate ma comunque tutto quello che è problematico porta cortisolo porta ansia e porta comunque sia il fatto che non si cresca come dio comando a uno dice ma io sono cazzo sono tutti quanti depressi a vent'anni per quelli non ne ho il capisco a vent'anni probabilmente inconsciamente non si riescono non riescono a capire riescono a capire inconsciamente che fanno parte di un altro sistema di un altro mondo e che questa cosa qui oggi noi negli anni 80 anni 90 avevamo la speranza i nostri genitori parlavano di soldi compravano car qui c'è solo possibilità di qualche merda di merda inchiappettate guardate dal prossimo e senza sapere un ragazzo nasce nasce cresce e cresce con a parte con la distruzione che creeranno questi influenze con bull che mica bull che io tutti i ragazzi sono nella stessa condizione di tutte le palestre non si parlano fanno gli stessi movimenti da powerlifter del cazzo che poi limano le loro cartilagini e tutto quanto difatti i nostri due strongman sono out perché purtroppo uno ha perso le cartilagini ginocchia e l'altro invece di perdere alla lingua perso le cartilagini alla alle braccia di conseguenza un pessimo lavoro perché gli strongman sono ancora adesso e caz mai era ancora 60 anni quella gioca con la forza durante questo percorso sono stati usati da me due principi molto importanti che sono sempre e comunque questo dopo un po ragazzi non ho 15 anni però ho dovuto fare un paio di infiltrazioni perché comunque il polso cominciava io un polso molto piccolo va bene per il bodybuilding ma quando si usano pesi che sono oltre il tuo la tua struttura anche se riesci a maneggiarlo perché il tuo sistema neuromuscolare ha imparato e ha detto al muscolo che si è ingrandito a dismisura oltre quello che fosse la tua il tuo frame chiaramente ci sono delle noie di dolori e tanti è perché non si considerano il fatto di fermati e vai avanti ho visto alcune cose con i ragazzi predicare le presse con dolori alle ginocchia e anche se i dolori vai avanti zero io ho dovuto togliere sia squat che presse come hai fatto per quanto riguarda le gambe ho cambiato sistema sono arrivato alle fs7 f7 t7 insomma quello di bambi per cui alti carichi e esaurire per fare quel certo movimento quando già la gamba è carica manetta per cui il leg extension come primo parte sempre stato così ma come primo nel senso di altissime ripetizioni e un esercizio in mezzo poi che diventa quello che ha usato bambi né più né meno chiaramente poi magari far conoscere questo ragazzo che mi sta dando dei consigli su come salire sul palco dato che mi sono sempre fermato una settimana prima per via di sfiducia di aver visto come funzionano certe federazioni dall'interno avendo conosciuto tante persone parlavo con secca ci sono certe condizioni a cui devi stare e io non sono il tipo di conseguenza ci sono dei delle cose che valgono ma soprattutto io dico sempre per qualsiasi cosa voi volete vogliate fare natural o non natural poi sono decisioni personali sistema di allenamento che è una preparazione che è durata più o meno fine di aprile per cui maggio giugno luglio agosto settembre ottobre settembre ottobre per arrivare a un tot kiri per poi avere dei piccoli stalli delle decisioni che avrebbero dovuto mollare tutto il discorso perché alcune volte sono arrivati delle ventate di sfiga che avrei voluto sicuramente mollare ma dopo questa novità e dopo quest'altra novità della gara voglio vedere sia una come va a finire sia l'altra perché comunque sia dal telefono cominciarono hanno cominciato ad arrivare delle telefonate di collaborazioni che stanno diventando sempre più grandi grazie alla mia fan base che non voglio che diventi come quella degli altri che ha fatto a gran voce il mio nome a delle persone che hanno fatto collaborazioni con chi me la impedite di fare grazie ancora a tutti voi sinceri o si un sincero un sincero ringraziamento per le persone che si preoccupano davvero per qualcuno nonostante ci siano i soliti mongoloidi del cazzo per quanto riguarda i dettagli le cose tutto quanto se non volete perdere tempo o rovinar via vita non vedendo i vostri figli andare all'asilo tutto il resto e dove rimanere sani avendo potuti dire magari ho fatto questo fatto quello io e anche quest'altra persona perché comunque sia lui si vuole affermare su questo mondo di preparazione tutto il resto e insomma è una persona che mi piacerebbe presentarvi perché io avevo sapevo già come era il discorso però mi sono approcciato a una persona che è in quel mondo è nel finale e le cose sono un po cambiate da 15 anni da adesso per cui due cazzate me le sono le ho chieste senza problemi e fatevi sentire sempre su instagram e appena vi dirò come va a finire ma è molto breve ciao ciao ciao